Ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Cianne, siamo qui in compagnia ancora del nostro carissimo amico Zurak, questo Doberman di 5 anni. Questa è una palla, si chiama Boomer Ball, è uno di cui giochi molto molto intelligenti. Non è altro che una pallina di dimensioni giusta da non essere presa in bocca al cane, è una pallina liscia e quindi che il cane non riesce né a trattenere con le zampe né a mordere, è una pallina particolarmente leggera e particolarmente dura, quindi non può essere distrutta, non può essere presa in bocca, non può essere fermata. Questo cosa comporta? Che il cane può giocare da solo, voi mettete questa pallina in un prato, aspettate circa un'oretta e poi portate a casa il cane che è completamente rotto. E questi sono quei giochi intelligenti che la gente sottovaluta ma che serve per fare molta attività fisica al nostro cane senza bisogno per forza di fargli distruggere tutto. Come potete vedere, è fantastico, è veramente un bel gioco e io sono molto più contento perché come vedete sto fermo e il cane si diverte da solo. Bellissimo!